Anche la democrazia più antica del mondo ha le sue magagne, in quanto a scandali l'America non scherza. L'ultimo ha colpito il governatore del New Jersey, Chris Christie, repubblicano e favoritissimo come candidato alle presidenziali del 2016. Pensate, i collaboratori di Christie avevano chiuso delle autostrade con finti pretesti di sicurezza solo per danneggiare i cittadini di un municipio il cui sindaco non aveva appoggiato Christie alle elezioni. Un atto ai confini del banditismo. Christie ha dovuto fare una conferenza stampa in cui si è pubblicamente scusato, ha detto che lui non ne sapeva niente, ha licenziato il collaboratore più direttamente responsabile. Insomma, vedremo se questo scandalo può affondare un repubblicano molto in vista per le presidenziali. Prima delle presidenziali si vota quest'anno, a novembre, alle congressuali di midterm e lì sono i democratici in difficoltà con Obama al 40% dei sondaggi. Unica consolazione, i repubblicani sono ancora più impopolari di lui, i sondaggi li danno al 30%.